Buon pranzo, sono le ore 12 e 25, oggi è domenica, ci troviamo alla giornata conclusiva agli atti conclusivi di questo torneo, sono qui con il manager Fabio Puelli dell'Oltretorrente Under 12 Fabio, com'è andata stamattina? Andata bene, abbiamo vinto la partita di semifinale dal terzo e quarto posto, scusa, quinto e sesto posto e ci troviamo a fare poi la finale per il quinto e sesto posto Giocherete contro Reggio Emilia? Giochiamo contro Reggio Emilia Che ha battuto i Lions Com'è andata questo torneo? Ti aspettavi qualcosa di più, qualcosa di meno dalla tua squadra? È andata come doveva essere, perché noi abbiamo una squadra che è arrivata all'Under 12 quest'anno dalla scuola Belbo e quindi fatta prevalentemente di 2014 Quindi 8-9 anni? Esatto Qua il duo 3 è 2010, ma poi insomma la squadra è fatta tutta di piccolini che tutto sommato stanno facendo una bella esperienza Lasciamo stare i risultati sportivi perché non sono queste, non è importante questo insomma, importante che i ragazzi facciano esperienze di questo genere Noi seguendo i Lions anche loro hanno questo torneo e anche tutti gli altri hanno dimostrato che c'è tanto da crescere E questi tornei servono anche a questo E complimenti a voi che avete puntato sui giovani e li state facendo giocare proprio in questi tornei proprio per fargli fare esperienza Esattamente sì, poi alla fine insomma è quello che bisognerebbe sempre fare insomma Fargli giocare, in secondo piano teniamo i risultati sportivi, l'importante è che escano sempre dai tornei con il sorriso sulla bocca e il divertimento Sicuramente usciranno arricchiti perché tante nuove esperienze di gioco Tante nuove esperienze di vita, di amicizia, di gente che infatti ho fatto parecchie foto Gente, ragazzi di diverse società che parlavano, si confrontavano, giocavano soprattutto perché qua si gioca non solo durante le partite ma anche riscaldamento BP, ogni momento è buono per giocare a baseball Sì, sì, ma i tornei devono essere questo, i tornei estivi devono essere questo Amicizia fra i ragazzi, conoscere più ragazzi, fare amicizia anche al di fuori di quelli che sono sempre i confini provinciali Lì giù c'è la tua squadra, i dirigenti che si sono lavati le mani e stanno ridendo, che se ne sono scampate Esatto, esatto Vedenti Ridendo le mie spalle, gli altri si sono scappati Sì, sì, io mi sono avvicinato, se ne sono dati, hanno lasciato la sua, va bene Il manager aspetta anche questo Va bene, grazie per la tua disponibilità e buon proseguimento Grazie a voi Ciao, ciao